Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video di Roblox, oggi siamo insieme a Kendal, ciao! E oggi faremo finalmente le Bedwars di Roblox, sei contento? Gli imperatori sono tornati! Sì, quindi voi dovete subito lasciare un grande mi piace per questo ritorno incredibile su Roblox, sono diverse ma sono uguali e cominciamo! Sono diverse ma sono uguali ho detto? Sono diverse, sono uguali ma sono bellissime! Sono diverse, sono uguali ma sono un po' piccanti ma un po' grodolci, ok cominciamo! Ok, allora questa mappa è la mappa della neve! Del cioccolato, quelle sono case di cioccolato, biscotti, caramelle! Allora ti ricordo che possiamo giocare sia in terza persona che in prima, in combattimento! Guarda io sono spada! Mi raccomando soldato, ce la dobbiamo fare ok? Io sono nato soldato! Sei nato o sei... O sono soldato! Ok, cominciamo subito! Oh ma è proprio come le Bedwars! È proprio come le Bedwars, uguali identico! Allora con questo tizio ci potenziamo ok? E con questo compriamo le cose? Compriamo le cosine, sì! Ok, allora io prendo subito una spada in ferro! Vai, io proteggo subito il letto! Ok, blocchi! Vai, andiamo subito verso i diamanti così ci facciamo le armature e tutto! Sì, io proteggo un attimo! Allora ce ne abbiamo uno! Ce ne abbiamo uno a destra e uno a sinistra! Eh, brutta brutta la situazione! Tieni inizio? Ok, ok! Io ho la spada già! Arrivano cattivissimi! Guarda che roba! Preparati! All'attacco di vichinghi! All'attacco di vichinghi! Ammazzati vichinghi! Motto sti vichinghi! Mi ha buttato su! È morto, è morto, è morto! Morto? Ok, bravo, bravo! Però loro vado più vita ora, eh! Cavolo, cavolo, cavolo! Dobbiamo... Oh, prendi una spada! Prendi una spada in pietra, in pietra! Bella faccia! Eh, lo so! Stavo guardando se arrivavano! Tieni, ti do i blocchi! Tieni, ti do i blocchi! Stanno arrivando, stanno arrivando! Ci penso io! L'importante che tu prendi una spada! Vai, 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 vai! Venti, venti! Oh, loro sono i diamanti! Oh, quali sono i miei diamanti! Oh, cavolo, arriva! Vengo da te, vengo da te! Arriva il vichinghi! Viamo insieme! Vai! No, 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 fermo, abbiamo poca vita! Aspettiamo che vengano loro! Ok, guarda che stupido! Arriva il vichinghi! Vieni, vieni, vieni! Vieni, vieni! Dai, vieni! Vieni, vai! Di sotto, di sotto! Oh, cacca di questo! Attento! Fai giù, sacchetto della spazzatura! Via! Grande, bravissimo! Diamanti, diamanti subito! Io resto in base, eh? Sì, ok! Ho preso i diamanti, torni indietro! Muoti, 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 muoti! Mamma mia, mamma mia! Guarda che tra un po' arrivano! 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 Guerra! Ho poca vita, eh! Guerra, bella faccia è guerra! Attento! All'arco! All'arco! Non oltrepassiamo il ponte! Vai, di sotto, maledetto! Ok, giù! No, attento, all'arco! All'arco, all'arco, all'arco! All'arco, 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 all'arco! Davanti, vado avanti, vado avanti! Ok, ok, ok! Prendi i diamanti, eh! Io prendo i blocchi per proteggere un po' meglio il letto, così non va bene! Ok, un diamantino! Servono più i blocchi, servono più i blocchi! Sono tutto, io resto qua, eh! Resto qua! Io pure un diamante! Ok! Prendine quattro e ci facciamo tutti gli upgrade! Vieni, vieni, te lo do, te lo butto per terra! Ok, dammi! Sta arrivando, sta tornando! Arrivo, arrivo! Attento che all'arco, ricordati! Ci sono, ci sono, sono qua! Un altro diamante, torniamo in base! Sì, sì, sì! Attento, all'arco, all'arco! Potremmo andare! Eh! Se me ne dai un altro, vuoi stare qua? Me lo vuoi passare? Torni in base! Io ho paura, sì! Tieni, tieni! Arriva, arriva, arriva! Buttato, buttato! Ci penso io da lui, tranquillo! È morto, è morto! È un uomo che parla! È morto che parla! Bravo! È morto che cammina! Aspettiamo l'altro diamante! Hai capito che è più forte! Guarda, guarda che sta l'arco! Ah, mi ha scelto con l'arco! Cavolo, maledetto! Maio, Kendall, mi devi coprire, perché questo è forte! Arrivo, arrivo! Kendall, aiuto! Ciao, l'arco! Arrivo, arrivo! Ho quattro diamanti! Vai! Ti penso io, ti penso io, ti copro! Ti copro come una copertina d'inverno! Ok, torno a casa! Arrivano, arrivano, arrivano a letto! Vai! Ho protezione! Ho messo protezione! Grande, 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 grande! È giù, è giù! Stai giù, accusa! Sì, oh, basta morire! Abbiamo perso troppe risorse! Sì, altra lana! Ho fatto protezione 2, eh! Abbiamo anche protezione 2 adesso! Top, top! Veramente fantastico! Io mi prendo spada e armatura! Facciamo un po' di muri, perché hanno rotto le scatole, questi, veramente! Sì, con l'arco, guarda! Mamma mia! Ok, ci siamo! Ma il blu è morto? Il blu no! Infatti di là! Infatti di là! No, sono andati a combattere di là! Quasi quasi potremmo rompere il letto! Sai cosa? Io intanto vado al centro! Vai, ok! Dimmi se arrivano i vichinghi! Mi sono fatto l'armatura! Resto qua di guardia, eh! Dimmi se arrivano i vichinghi! Per ora no! E se mi sparano con le frecce! Per ora no! Allora, vado a prendere... Per ora non ci sono! Sono morti? No, sono in base! Vado a prendere i diamanti! Ok, prendi tutto! Importantissimi diamanti! Ok, cavolo, cavolo, cavolo! Mi sa che mi hanno visto! Io vado al centro! Oh, cavolo, cavolo, cavolo! L'hanno preso! Tranquillo, tranquillo! Arrivano, 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 Kendall! Tranquillo, noi non abbiamo paura di uno stupido vichinghino! Attento! Guarda, guarda, guarda! Vuole andare su! Mi sa che è la TNT, eh! Tranquillo, tranquillo! Guarda dove sono io! Bravissimo! Forza, piccoletti! Venite! Attento che arriva alla TNT, mi sa, eh! Hoppala! Vieni qua! Gli rompo il blocco, gli rompo il blocco! Vieni su! Bravissimo! Bravo! Attento! È sceso, è sceso, è sceso, è sceso, è sceso! Su, amico! È sceso, è morto! Mamma mia, divastati! Devastati, devastati! Come dirlo, chi sono? Noi, 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 noi! Noi, siamo i veri vichinghino! Noi, tutta la vita, tutta la vita! Altri blocchi? Vediamo, altri blocchi! Arco e frecce, sono importantissime! Arco e frecce, hai ragione! Arco e frecce! Ok, allora, c'ho due diamanti, eh! Io proteggo! Dobbiamo prenderne altri, Kendall! Diamanti? Sì! Guarda, se li prendono! Gli smeraldi, tu sai cosa facciamo con gli smeraldi? Che armature potentissime! Aspetta, li sto sparando! Voi, vai, vai, prendi i libri! Beccati questo! Beccati questo! Allora, io prendo arco e frecce, pure io! Beccati questo! Beccati questo! Sei pronto? Eh, non ne prendo neanche uno! Devo prendere altre frecce! Preso! Copri, 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 arriva! Arrivano! Attento! Arriva! Perché l'ho preso! Preso! Occhio! È giù, è giù! Grande, tutte e due! Tutte e due, grande! Ora, ora, ora! Vai, vai, vai! Occhio non morirà, eh! Vai, 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 vai! Dovresti avere dei diamanti in inventario, forse? Sì, io ho uno! Io ho quattro, io! Coprimi! Ci penso io! Aiuto, aiuto, aiuto! Fammi venire, fammi venire, fammi venire, fammi venire, fammi venire, fammi venire, fammi venire! Sono anche frecce! Mi sto prendendo io! Ok, vediamo! Via! Team generator, ok! Andiamo più veloce! Non ne ho più, però va bene, vai! Dai, 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 dai! Che ce la facciamo! Prendo una marea di frecce! Sto battendo come devi rigurire! Arrivano! Arrivano! Il suo amico è rimasto indietro! Il suo amico, insomma, l'ha aiutato molto, eh! Sì, moltissimo, guarda! Ho le frecce, ho le frecce! Anch'io! Allora, io ho iniziato a avvicinarmi verso il centro per la faccia importante che prendiamo si cavolo di smeraldi! Adesso però arrivano, eh! Stanno arrivando! Io c'ho anche frecce, tanto! Guarda che lo prendio! Arriva il contadinozzo! Arriva il contadinozzo! Aiuto, 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 aiuto! Aiuto, 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 aiuto! Fatto! Beh, mi ha buttato giù! No, 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 no! No! No, 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 Kendall! Si mette male! Dammi due secondi! Sono morto! Sono morto! Ci sono, ci sono! Cavolo, cavolo, cavolo! Non ramperai nulla! Vai via dalla mia tana! Dai, dai, dai! Sono morto, è morto! Bravo! Grande! Oh, ma io non cammino più il mio personaggio! Ok! Oh, io tra un po' mi prendo l'armatura in ferro! Mamma mia! Vado un attimo avanti, eh! Ok! Gli vado a dar fastidio! Quanti diamanti hai? Muori! Per ora niente! Sei uno qua! Mori, 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 mori! Morto! Ho arrivato! Ho arrivato! Ho morto! Ho preso indietro! Tre diamanti! Coprimi! 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 No! Non posso! Non ho l'arco! Cavolo, cavolo, cavolo! Tre diamanti! Presi, presi, presi! Se li hai! Cavolo, aspetta! Aspetta! Arrivano, arrivano! Tiri! Tiri, tiri! Buttati, buttati! Mi serve una spada migliore! Arrivano! Kedal! Vieni! Sì, arrivo, arrivo! Buttato su, buttato su uno! Eccolo, eccolo! Prendi, ora prenderò! Mamma mia! Vabbè, troppo forti! Troppo forti, troppo forti! Batterci! Ok! Allora, io ho preso anche la velocità nel rompergli il letto! Bravo! O i blu forse arrivano da noi, sai? Spada di iron presa! Oh, forse vengono i blu! Oh, che guerra! Che guerra! No, il blu no! Pure il blu no! Allora, cosa mi serve? Cosa mi serve? Frezze? Beh, io prenderei la corazza! Ma sai che cosa? Guarda, gli smeraldi, cavolo! Eh, guarda che il ponte per centro l'ho fatto! È già pronto! Appena ci togliamo questi dalle scatole, scendiamo! Eh, ma non si mollano! Guarda cosa ho fatto! Sono qua! Sono qua! Sono qua! Sono qua! Tanto a me con la spalla non mi ammazzano più! Oh mio Dio! Grande! Tutto in ferro! Dai, attaccatemi ora, stupidoni! Top, perfetto! Ah, non vengono, non vengono! Ok, blocchi! Poi che altro? 120 in ferro! Arrivano! Sì, ma tanto siamo super equipaggiati, non ti preoccupare! Oh, questo aveva quasi rotto il letto! Oh, ma noi l'abbiamo perso il letto! No! Oh! Tieneti! 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 Occhio, 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 che rimbalza! Occhio, che rimbalzi via! Arrivo! Li ammazzo io! Morto uno! No! Mori, mori! Morto tutti! Varo subito a prendere gli smeraldi, ora che abbiamo tempo! Vai, occhio al letto, eh! Io copro! No, non ho blocchi! Mi servono i blocchi per arrivare là! Oh, candle! No, no, no! Arrivo, arrivo! Prendo altri blocchi! Arrivano! Arrivano, bella faccia! Arrivano, l'ho visto, l'ho visto, l'ho visto! Vai giù di sotto! Eh, vai giù di sotto! Ma cosa vuoi fare? Stramorto, stramorto, stramorto! Per favore, dai! Non farci ridere! Vado a prendere altri diamanti! Io prendo gli smeraldi! Dai, 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 dai! Oh, fai attenzione! 4, 1, 4! Vio, 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 vio! Vio, vio, vio! No, che ne sta arrivando! Sta arrivando, eh! Sì, da noi? Sì, occhio! Arrivo, arrivo! Buttato su, buttato su! Scarsissimo! I blu stanno iniziando a pensare ad attaccarci, sai? Veramente scarso! Mi servono due diamanti, due diamanti! Se li hai? Oh, io mi sono stancato! Ne ho uno! Te lo butto! Dammi, dammi, dammi! Vieni qua! Io mi sono stancato di questo! Vanno rotto, vanno rotto questi! Oh, ti reti! Dove? Attento! Me l'ho spinto giù, me l'ho spinto giù! Mori, mori, mori! Vai! Morto uno! Morto uno! Bravissimo! Morto anche l'altro! Tutte e due! Mamma mia, troppo forte! Troppo forte! Chi è il re? Noi siamo i re! Mamma mia! Mamma mia! Copro la corazze ferro, sì! Oh! Io mi prendo un piccone migliore! La spada, la spada! Sei la spada in... Piccone, spada e li ammazzo! Vai! I niron! I niron anch'io! Mi serve un altro diamante che and... Vai giù! Bravo! Varo da loro, basta, mi sono stancato! Vai! Bravissimo! Basta, mi avete stancato! Vai, vai, Kendall Highlander! Highlander! Non ne frega niente! Resisti che prendo un altro diamante! Arrivo, guarda! Vai, ciao! Ho letto che tra un po'... Sì, 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 sì... Sei vato! Sei vato! Quasi! Dai che sto andando in base, sto andando in base io! Quasi rotto! Quasi rotto! Affilatezza, ho fatto affilatezza! Sei molto... Quasi rotto, quasi rotto! Arrivo, arrivo da te, arrivo da te, arrivo da te! No! Ma c'è già pochissima vita, non è protetto! Cavolo, cavolo! Vado su, vado su, vado su! Vado, 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 vado! No, arrivano! Dio! Li tengo, li tengo qua! Li equipaggio! Li tengo qua! Perché salta quello? Preso! Prendo frecce! Preso! È la fine! Sono equipaggiato bene! Vai! 18! Vai! Vai, 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 vai! L'ho preso con l'arco, poca vita! Muori! Vai, vai, andiamo! Adesso mai più! Adesso mai più! Adesso mai più! Già l'arrembaggio! Arrivo anch'io a difenderti! Rotto, sì! Sì, rotto! All'arco! Vai, Kandal! Vieni, 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 massacrali! Un andato! Un andato, mi sa! Un andato! Quello scappa! Sì! Dove pensi di andare? Dove pensi di andare? Prendi questo! Prendi questo! Sì! Wow! Sei troppo forti! Siamo imbattibus! Grandissimo! Kandal! Mamma mia, che bello! Oh, ma guarda quante uccisioni abbiamo! 14! Siamo quelli con più uccisioni di tutti! Mamma mia, siamo dei grandi! Ok, allora, dovrebbero arrivare da noi? No! Ok, i blu sono ancora lì! È arrivato il momento di prendere gli smeraldi! Oh, porca miseria! Devi andare, eh! Devi andare a prendere! Deve andare a prendere gli smeraldi! Basta, sì! Io sto qui con i diamanti! Sì, faccio... Cosa posso fare? Fai tutte le protezioni, affilatezze, tutto, tutto! Sei tu quello là, no? Mamma mia! È troppo divertente, comunque! Oh, prendo tutti questi smeraldi! Ce ne saranno tantissimi! Uno? Uno solo? Eh, devi fare il giro! Ce ne sono di più! Ok, allora, giro! Ok, con sei! Vuoi che rompi più velocemente? Ancora aspetto! Meglio fare le altre cose! Secondo me è meglio protezioni e affilatezze, sì! Ok, smeraldi! Due smeraldi! Cosa facciamo con gli smeraldi? Aspetta che metto gli stone brick! No, no, ma dico, cosa ti dà? Con gli smeraldi puoi fare spada, puoi fare di tutto! L'ossidiana per proteggere la base! Eh, l'ossidiana! Oh! Oh, cavolo! Un cavaliere in diamante! Comun cavaliere in diamante! Sì, è indiamantato! Muoviti, 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 muoviti! Ce l'ho con me! Lo sto uccidendo! L'ho ucciso e l'ho buttato giù! Grande! Bravissimo! Oh, mi ha detto che aveva dieci smeraldi! Vieni, torna in base, subito! Torno subito! Subito, subito, subito! Torno subito! No, ma ci possiamo fare il mondo, eh! Arrivo, arrivo, arrivo! Vado a prendere un altro diamante! Oh, sì, tu quello, sì! Sì, sono io! Grande! Possiamo farsi l'armatura in diamante, tutte e due! Tutto, tutto, ci facciamo tutto! Vai, 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 vai! Ok, allora io... Però che non mi buttino giù perché diventano ricchi! Armor Protection! Vai! Allora, io prendo... 40%, eh! Tieni, tieni un po' di diamanti, sei pronto? Vai, 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 grande! Sì! Io mi prendo... Solo sei? Spada in diamante o armatura? Ne hai altri due in più? Certo, tieni! Ok, vai! Prendeteli tutti tu! Equipaggeti al massimo! Grande! Diamante! Sì! Ok! Ok, ok, ora ci siamo, eh! Ora ci siamo, eh! Ok, questo, 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 ok! Arriva uno! Dove, dove, dove? Ma no, io ho visto il nome! Eccolo! Quello che ho ucciso! Vieni, vieni, piccoletto! Vieni, amore mio, vieni qua! Vieni! Pam! Tutti l'arco come... Pum! Oh, 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 oh! Preso? Ci sono anche l'ender perle, ti ricordo, eh! Oh, il suo arco fa male! Credo che abbia la balestra! Kendall, guarda i palloni! Guarda! Ho i palloni! Oh mio Dio! E che cavolo ci facciamo? Guardami, guardami! Pap, 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 pap! Ma se sei matto! Sì, te lo rompo! Eh, lo so, non mi ha visto! Guarda! Andiamo giù! Andiamo giù! Guarda, guarda! Non mi vede, non mi vede! Dai, 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 massacralo! Non mi ha visto, non mi ha visto! Aspetta, arrivo, eh! Non mi ha visto! Prendo, prendo diamanti o smeraldi? Non mi ha visto! Sto andando da lui! Ok! Non mi ha visto! Sono dietro di lui, non mi vede! Dai, dai, dai! Oh, ma devi buttarlo giù! Eh, ci provo, cavolo! Sta scappando! È il modo migliore! Forse mi vede, eh! Sono dietro di lui! Io prendo altri diamanti, eh! Ho lasciato la base! Oh, sto per rompere! Dai, dai, dai! Gli ero un po' letto! Gli ero un po' letto! Gli ero un po' letto! Gli ero un po' letto, sì! Sì, gli ero un po' letto! Ammazzalo, ammazzalo! E l'ho buttato là giù! Gli ero un po' letto! Gli ero un po' letto! Non mi importo, non mi porto! L'ho buttato! L'ho ucciso! Dai, 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 muori! Sì! Ho sconfitto un team da solo! Oh, mio Dio! Quanti ne restano? Due! Noi e i gialli! Gli ero ammazzati! Restiamo solo contro i gialli, bella faccia! Mamma mia! Allora, piccone in diamante, se lo ho palloncini! I palloncini sono una cosa incredibile! In serio? Devi prenderli! Oh, c'è uno qua! Un giallo! Da noi? Muori! No, da me è qui! Muori! Mamma mia! Vieni, hai paura! Scappi, eh, zigantone! Oh, basta! È arrivato il momento di farsi la spada in smeraldo! Morto un altro, fatela, fatela, fatela! Eh, io qua sto rischiando, eh! Arriva, arriva, se vuoi ti vengo ad aiutare! No, 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 sono dei blu! Chi rimane è solo il zallo, Kendall, eh! Sì, sono i gialli! Ok, prendo degli altri diamantini! Ti vedo i gialli, eh! Tieni sotto controllo la base, che sono lontanissimo, eh! Cosa vuoi? Che la nostra base produce di più! Io sono la controllo! Oh, ma i gialli sono nudi, bella faccia! Non so! Ok! Armature! Allora, team generator o breaking speed? Breaking speed, vai! Oh, io... Andiamo dai gialli! Mamma mia, andiamo! Con la faccia, sono lì! Dove sono, là? Sto arrivando, eh! Non ha niente! Sta proteggendo il letto con la lana! Oh, è epica, è epica questa Bedwars! Mamma mia! Preso! Ha poca vita! Arrivo, aspetta, mi aspetta, mi arrivo! Oh, cavolo, no! Il suo amico è... È smeraldo, quello! Come smeraldo? Mi sa che è smeraldato! Allora, per sicurezza mi prendo un po' di smeraldi al centro, eh! Tieni lì! Sì! Io comunque gli sto facendo malissimo con arco e frecce! Oh, non ho visto! Io vado avanti, vado avanti! Non mi ha visto, non mi ha visto! Non mi ha visto! Ho il vento! Il centro, è tutto mio, il centro! Oh, mi attaccano! Attaccano? Ti mi attacca! L'ho ucciso! Ammazzo il suo amico! Oh, oh! La faccia, li ho uccisi entrambi! Oh, uno, uno, uno è là! Entro a rompere! Ma dove stanno andando? Sto rompendo i letti! Ma sono da noi lì? No, 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 no! Ma dove sono? Sono da loro! Grande, vai, vai! Rompi, 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 rompi! Non ci provo almeno, eh! Non capisco da dove sono! Rotto, 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 rotto! Grande, grande! Ma non capisco, sono lassù! Che cavolo fanno? I gialli sono qua, però ci sono anche i blu! Ah, ci sono anche i blu! E non hanno il letto! No! Noi siamo gli unici con il letto, con la faccia! Ho appena ucciso un giallo! Grande! Resta solo il suo amico! Bravo, bravo, bravo! Ottimo, ottimo lavoro, soldato! Grazie! Grazie, generale! Mi sto prendendo un sacco di smeraldi, eh! Uccido il suo amico gigante ed è tutto in smeraldo! Sì, vabbè! L'uccido, 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 l'uccido! Arrivo, arrivo da te! Porto! Grande! Tiro una palla di fuoco! No, basta, basta! Ho già fatto tutto! Fatto tutto? Sei te quello? L'ho eliminato, sì! Ok, grande! Ora andiamo dai blu! Siamo troppo forti! Restano solo i blu, bella faccia! Ok, vediamo! Solo i blu! Otto smeraldi, grande, vediamo! Viola spara di diamante adesso! Settecento di ferro, cio! Sì, vabbè! Ma quanto... Uuu, ma quanta roba! Cavolo ci facciamo i setcento di ferro! I palloncini sono forti, eh, te li consiglio! Sì, dai, prendili! Ti prendo anch'io? Eh, secondo me ti conviene, eh! Come funziona, no? Ti conviene, li usi col set, li usi, ok? E poi con la X li puoi rompere! Con la X? Con l'X li puoi rompere! Pronto? Sì! Io inizio a volare verso di loro, dove sei? Sono qua, sono qua, sono qua! Dove sei? Ma è l'armatura in diamanti, sono qua! Ti vedi? Salto! Ah, sei te, sì! Arrivo, arrivo, arrivo! Ho paura! Arrivo, arrivo, arrivo! Andiamo dai blu! Un attimo, eh! Sei pronto? Eh, vorrei usare queste ultime cose che ho in alimentare! Ti do, ti do io i palloncini! Vedete i palloncini? Sì! No, ma c'è io già, c'è io già, c'è io già! Ok! Allora, aspetta, guarda che faccio! Sette smeraldi di diamanti! Sai che faccio? Cosa fai? Volo verso... Verso il loro tetto, così non mi vedono! Preparati, eh! Guarda, guarda dove sono! Aspetta, aspetta un attimo, che andano due secondi! Sì, 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 sì! No, ma io non li vado ad attaccare! Oh, ti vedo, ti vedo, ti vedo! Mi sto soltanto mettendo qua nel tetto! T'hanno visto? No! Non hanno idea che sono qua! Vieni, ti aspetto, bella faccia! Aspetta, arrivo! Mi faccio un attacco sorpresa, preparati! Dai, dai, dai! Sto arrivando, sto arrivando, sto arrivando! Guarda, 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 guarda! Vai, 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 sali qua! Dai che non ce l'aspettano! Tre! E' pronto, aspetta? Aspetta, tieniti, ho la tieniti, ho la tieniti! Ok, spacca, spacca! Piazza, via, via, via! Ok, vai, vai, vai! Occhio che fa un bel contraccolpo, eh! Ok, è rotto? Andiamo giù! Tre, due, uno! Giù! Giù, non mi va! Cavolo di protezione hanno fatto! Non mi va! Giù, 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 sono giù, sono giù, sono giù! Muori, 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 muori! Guarda la faccia! Ce l'hai? Grazie! Oh mio Dio, che... Ma ti rendi conto abbiamo fatto 40 uccisioni? Mamma mia! Ragazzi, siamo ultra forti! Wow! Ce l'abbiamo fatta! Speriamo che il video vi sia piaciuto! Se ne volete un altro, lasciate un super mi piace! Ciao! 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 ! Ciao! Ciao! Grazie a tutti.